Il microfono, tu già sai cosa fare, noi ci tenevamo a grande richiesta, perché molti del villaggio ce l'hanno chiesto di riascoltarlo, in quanto tu non andrà via, poi siamo sicuri, lo vedremo nelle più belle piazze e delle sagre della Pocchè, eh no, nei più grandi palcoscenici, perché Luca a quanti anni hai? 14. 14 anni, già ha una presenza, grazie, guarda gli un applauso, ha una presenza da parte. Grazie, meravigli. E buonasera a tutti, come al solito. Speriamo che lui sia uno dei tanti italiani premiati e non raccomandati. Vai Luca, sei il nostro palcoscenico, è il pubblico di Capo Piccolo. Vai DJ! Sulle mani! Andiamo con questo grande successo di Massimo Ranieri, dai, sulle mani! Il cuore mio non dorme mai, sa che di un altro adesso sei, tua madre va dicendo che, a maggio un uomo sponzerai, ma se in fondo al cuore è tuo, c'è un ragazzo, non sono io. Ma chi l'ha detto, ma perché, non devo più pensare a te, nessuno sa chi sono io, mentre un bacio è stato il mio, mi pazzisco senza te. E ogni notte ti rivedo accanto a me. Na 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 na, se bruciasse la città. Bravissimi! Bravissimi! Anche il fuoco vincerei per rivedere te. Se bruciasse la città, lo so, lo so, tu cercheresti me. Anche dopo il nostro addio, l'amore sono io, per te. Il cuore mio non dorme mai, per inventarti accanto a te, non brucia mai questa città. C'è ancora un uomo insieme a te, ma se in fondo al cuore è tuo, c'è un ragazzo, sono io. Quel prato di periferia, ti ha visto tante volte mie, ed è troppo tempo che non sai, dove la mia felicità, infalsisco senza te. E ogni notte ti rivedo accanto a te. Se bruciasse la città, da te, da te, da te io vorrei. Anche il fuoco vincerei per rivedere te. Se bruciasse la città, lo so, lo so, tu cercheresti me. Anche dopo il nostro addio, l'amore sono io, per te. Grazie. 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 Grazie a tutti. Bravo, bravo, bravo. Grazie. Luca Attanasio. Ricordatevi questo nome e cognome, Luca Attanasio. Lo diciamo, di solito Luca, ma non si dice per scattare, ma non si dice per scattare, ma non si dice per scattare, ma non si dice per scattare. Grazie a Caravansia, però, oramai il pubblico di Capo Piccolo e tutti gli amici di Capo Piccolo si stregono intorno a te per un abbraccio. Luca, stasera gli avevano chiesto diербidire se ci riusciamo dopo. però noi abbiamo preparato un bis con un inedito di Luca però da un lato ne sono dispiaciuto perché non riusciremo ad ascoltarlo ma non lo possiamo ascoltare perché? perché Luca a breve, quindi nel prossimo inverno parteciperà ad un concorso per voci nuove che lo porterà sulla ribalta nazionale bravo! 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 animazione è tutta il villaggio grazie mille per queste aspettative grazie veramente di qua bravo! bravo! io sono toglioso perché io vedo mio figlio in Luca no 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 non sia mai Luca grazie, grazie di cuore